cominciamo buonasera dalla semina e benvenuti eh un saluto speciale oltre che alla nostra relatrice che tra poco vi presenterò anche ai docenti e gli studenti dell'associazione sale scuole viaggi che ci stanno seguendo e questa sera vi porteremo niente meno che su Marte eh pur essendo diciamo il nostro vicino della porta accanto naturalmente per modo di dire perché parliamo di milioni di chilometri eh dalla Terra in realtà il pianeta Marte è un posto piuttosto difficile da visitare infatti sono state tentate almeno quaranta missioni su Marte più della metà sono fallite eh vi sono addirittura alcuni scienziati spaziali che parlano del demone marziano una forza immaginaria che insomma saboterebbe i veicoli spaziali in rotta per il pianeta rosso naturalmente al di là di queste leggende l'esplorazione di Marte è una parte importante eh delle missioni spaziali internazionali infatti dagli anni sessanta sono state inviate verso Marte dozzine di sonde automatiche senza equipaggio che includevano orbiter lander rover naturalmente per raccogliere dati e rispondere a domande sul pianeta rosso e il suo passato che in realtà potrebbero portare a scoperte ulteriori che riguardano il passato il presente il futuro della Terra per cui molto importante attualmente stanno esplorando Marte il rover Perseverance il drone elettrico Ingenuity e il rover Curiosity però accanto alla NASA dobbiamo dire che ha sviluppato questi strumenti che ho citato si sta avvicinando all'esplorazione di Marte anche l'ESA all'Agenzia Spaziale Europea che collaborerà con la NASA al programma Mars Sample Return eh una serie di missioni spaziali insomma comprese tra il 2020 e il 2030 che intende riportare su Marte per la prima volta nella storia dei campioni di suolo marziano quindi roccia polvere riportarli sulla Terra eh per delle analisi che permetteranno di comprendere meglio il pianeta rosso questo è veramente un evento storico per la scienza e eh l'uso di questi rover eh autonomi per l'esplorazione planetaria è fondamentale per percorrere queste lunghe distanze ed eseguire nuove scoperte su altri pianeti e il rover che è un robot mobile insomma dotato di un braccio per la raccolta del materiale eh dobbiamo pensare che è essenziale che questi strumenti siano pienamente efficienti per lavorare in condizioni estreme ed è per questo che è fondamentale la ricerca e la sperimentazione su queste apparecchiature e quindi veniamo a noi perché alla nostra ospite perché lo Space Robotics Lab il laboratorio di robotica spaziale dell'Università di Malaga con l'Abo appunto con l'ESA che ho citato poco prima eh utilizzando Exoter un prototipo in scala che servirà a realizzare il robot che l'ESA manderà su Marte nel duemilaventisei e noi abbiamo qui l'ingegnere tecnologico industriale Laura Mantovani eh stasera nostra ospite che fa parte del team di ricercatori dello Space Robotics Lab che si occupano della programmazione del braccio robotico del del rover Exoter ed è qui appunto questa sera per parlarci della sua esperienza e per introdurci ai misteri del pianeta rosso quindi buonasera ingegnere buonasera benvenuta e io rinnovo veramente il nostro ringraziamento a questa nostra giovanissima eccellenza italiana della ricerca per la sua disponibilità insomma è molto impegnata in cose molto importanti e quindi niente grazie davvero e lascio lascio a te la parola. Grazie mille grazie mille. Benvenuta. Grazie allora eh inizio a condividere il mio schermo un momento. Ecco qui allora si vede il mio schermo? sì perfettamente grazie. Perfetto allora eh buonasera a tutti sono Laura Mantuani eh vi ringrazio moltissimo per essere qui questa sera per esservi collegati a questa videoconferenza e ringrazio soprattutto gli organizzatori della semina che mi hanno dato questa questa meravigliosa opportunità. Eh io mi sono laureata in marketing comunicazione aziendale e mercati globali presso la Università Bicocca di Milano e successivamente mi sono trasferita a Malaga dove mi sono laureata nel giugno del duemila e venti in ingegneria in tecnologie industriali. Eh sono già quattro cinque anni che sono qui in Spagna e per questo approfitto per chiedervi per chiedervi scusa in anticipo se sbaglierò qualche termine o grammaticalmente parlando perché ormai sono più abituata a parlare spagnolo che italiano. Eh nel giugno del duemilaventi appunto mi sono mi sono laureata in ingegneria e come tesi di laurea ho presentato il il prototipo di un rover durante la presentazione vedremo nel dettaglio che cos'è un rover è un robot eh usato per esplorazioni spaziali e questo progetto mi ha mi ha aperto le porte dello Space Robotics Lab come come ha detto Serena il laboratorio spaziale dell'Università di Malaga. Eh in questo laborio in questo laboratorio ci occupiamo principalmente di ricerca eh sviluppiamo degli algoritmi per l'esplorazione spaziale. Per chi non lo sapesse gli algoritmi sono eh una serie di passaggi per arrivare a un obiettivo finale. Quindi in questo laboratorio sviluppiamo numerosi algoritmi per diversi progetti di esplorazione spaziale alcuni dei quali in collaborazione con l'AESA la l'Agenzia Spaziale Europea. Per chi non lo sapesse la un po' la NASA europea ecco. Ehm quindi durante questa presentazione parleremo eh vedremo una piccola introduzione sui sui viaggi spaziali e sui pianeti del nostro sistema del nostro sistema solare. Eh parleremo dei rover vedremo nel dettaglio che cosa sono i rover e eh tutti i rover che fino ad oggi sono sono arrivati su Marte quindi ci concentreremo sul pianeta rosso e parleremo parleremo poi della Mars Sample Return. Ehm una missione svolta in collaborazione tra una collaborazione tra la NASA e la ESA europea e nella quale stiamo collaborando anche noi nel laboratorio di robotica spaziale dell'università. Quindi possiamo incominciare parlando di esplorazione spaziale. Allora l'esplorazione spaziale è eh l'esplorazione dello spazio che eh si svolge con veicoli ovviamente progettati dall'uomo che possono essere delle sonde automatiche o dei veicoli con eh equipaggio umano. Eh fino ad oggi tutti i veicoli con equipaggio umano che sono partiti dalla Terra sono arrivati sulla Luna o eh nella nella stazione spaziale internazionale. Tutti gli altri ehm veicoli spaziali che ci hanno permesso un po' di di esplorare l'universo sono delle sonde automatiche senza equipaggio umano. Perché? Perché questi viaggi verso i pianeti del nostro sistema solare ehm possono essere ovviamente pericolosi per per la salute dell'uomo per numerosi fattori come possono essere il vento solare o i viaggi cosmici che appunto possono possono recare danno alla salute di 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 ipotetici astronauti. Quindi in generale eh viaggi nello spazio si possono dividere in due grandi categorie eh viaggi interplanetari e viaggi interstellari. I viaggi interstellari sono dei viaggi verso pianeti eh che for che fanno parte di altri sistemi planetari quindi pianeti che non sono parte del nostro sistema solare. Ma oggi noi ci concentreremo sui viaggi interplanetari quindi viaggi verso i tutti e otto i pianeti del nostro sistema solare. Eh questi viaggi eh fino ad oggi sono stati tutti eh fatti con delle sonde automatiche quindi sonde eh come già detto senza equipaggio umano e grazie a queste sonde siamo riusciti a ad arrivare praticamente a tutti i pianeti del nostro sistema solare. Ehm abbiamo informazioni piuttosto importanti su tutti e otto i pianeti del nostro sistema solare. Quindi vediamo una breve introduzione su su quello che più o meno siamo riusciti a scoprire grazie a queste sonde. Eh in queste diapositive qui in basso ho indicato il nome del programma o della sonda che ehm o della missione che è stata fatta per riuscire ad arrivare su questi pianeti. Per esempio in questo caso con il programma Mariner eh la NASA è è riuscita a arrivare su Mercurio e a studiare per esempio la superficie di questo pianeta che come possiamo vedere in questa foto è caratterizzata da numerosi crateri. Questo perché? Perché Mercurio è un pianeta senza atmosfera quindi è molto più probabile che ipotetici asteroidi o corpi celesti che arrivino dall'universo si schiantino contro la sua superficie. Eh c'è maggior possibilità del dello schianto di asteroidi piuttosto che per esempio sul nostro pianeta dove abbiamo l'atmosfera che ci protegge un po'. Eh inoltre questo pianeta è è caratterizzato da un'escursione termica dovuta alla mancanza di atmosfera. Eh incredibile di notte si può arrivare a a meno cento gradi e di giorno quasi a quattrocentocinquanta gradi. In questa foto vediamo Venere. Venere è chiamato il pianeta gemello della Terra perché è molto simile in massa e dimensioni ma allo stesso tempo direi io molto diverso perché eh la sua atmosfera è molto densa e crea una specie di effetto serra sulla superficie di questo pianeta eh che rende Venere il pianeta più caldo di tutto il sistema solare. Si si arriva a temperature superiori ai quattrocentocinquanta gradi addirittura. E qui vediamo Marte. Questa sera ci ci concentreremo su Marte. Eh vediamo un po' questa foto panoramica che ci mostra una superficie anche in questo caso caratterizzata da numerosi crateri perché eh l'atmosfera di Marte è meno densa della nostra quindi anche in questo caso c'è maggior probabilità del 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 fatto che i corpi celesti possano schiantarsi contro la sua superficie. Inoltre questo tipico color rosso dovuto all'ossido di ferro contenuto nel nella sabbia di questo pianeta. E da Giove in poi parliamo di pianeti completamente diversi. Si parla di giganti gassosi ovvero sono dei pianeti che non sono composti principalmente di rocce. Eh di solito hanno possono avere un nucleo roccioso e tutti intorno del gas o del gas compresso a liquido. Nel caso di Giove abbiamo un nucleo roccioso e la composizione del pianeta è molto simile a quella del sole. Inoltre Giove Giove è un pianeta enorme ovvero eh ha una massa superiore a due volte la massa di tutti i pianeti del sistema solare messi insieme e ha un'attrazione gravitazionale molto forte infatti si dice che ripulisce un po' l'universo attirando verso di sé i detriti che sennò colpirebbero i i pianeti più interni. E Saturno è il secondo gigante gassoso eh è un pianeta il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare ehm ha un nucleo ghiacciato e tutto intorno eh uno strato gassoso e a questo eh conosciuto sistema di anelli costituito da polveri silicati e particelle di ghiacci ehm che insomma gli dà ecco questa questa conformazione un po' che che possiamo riconoscere facilmente eh quando guardiamo una foto di tutti i pianeti ecco e qui vediamo Urano. Urano è a mio parere il pianeta più più interessante del nostro sistema solare perché il suo asse di rotazione non è verticale è orizzontale rispetto alla sua orbita intorno al sole e inoltre gira in senso contrario rispetto a agli altri pianeti quindi come potete immaginare per esempio le stagioni sono completamente diverse dalle nostre. Ehm con Urano non parliamo più dei giganti gassosi parliamo dei giganti ghiacciati sono pianeti molto molto freddi per esempio nel caso di Urano eh nella sua atmosfera possiamo trovare addirittura delle tracce di ghiacci. E infine l'ultimo pianeta del nostro sistema solare è Nettuno. Nettuno con questo colore tipico blu azzurro dovuto al al contenuto di metano eh alla alla presenza di metano nella sua atmosfera eh come Urano è un gigante ghiacciato e la particolarità di Nettuno è che è l'unico pianeta che non è stato trovato grazie a un telescopio ovvero Nettuno è stato scoperto grazie a dei calcoli matematici perché dei cambiamenti insoliti nell'orbita di Urano fecero pensare che ci fosse l'influenza di un ipotetico pianeta vicino a quest'ultimo pianeta vicino a Urano e fu poi trovato praticamente nel punto che era stato calcolato con un errore di un grado. E infine spendiamo due parole anche per Plutone che non è più considerato un pianeta del nostro sistema solare dovuto alla sua massa. È un pianeta molto piccolo e fa parte dei pianeti chiamati pianeti nani quindi pianeti con una massa molto piccola eh ma eh per quanto riguarda le sue caratteristiche molto simile a Urano e Nettuno quindi a un l'interno del pianeta è composto di ghiacce e rocce e un pianeta appunto molto 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 freddo. Eh ma noi questa sera ci concentriamo su Marte sull'esplorazione di Marte eh che eh è probabilmente il pianeta che mh più ha interessato le missioni spaziali delle delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Eh moltissime missioni eh con moltissime missioni si è cercato di arrivare su Marte sia con delle sonde automatiche eh sia con dei satelliti sia con dei rover come diceva come diceva prima Serena eh ma la maggior parte di queste missioni non sono andate a buon fine purtroppo. Ehm l'esplorazione di Marte eh si fa quindi con delle sonde senza equipaggio che possono essere di due tipi. Ci sono delle sonde che fanno dei flyby ovvero dei sorvoli ad alta velocità ehm e delle sonde chiamate orbiter ovvero che come dice la parola stessa entrano in orbita intorno al pianeta. Eh queste sonde sono molto interessanti perché normalmente appunto abbiamo una parte che che entra in orbita intorno al pianeta l'orbiter e da questo orbiter si stacca una parte della sonda chiamato l'ender e è proprio la parte di questa di questo veicolo spaziale che atterra sul pianeta. normalmente eh nella maggior parte dei casi all'interno di un lander c'è un rover. Eh che cos'è un rover? È un robot eh che serve per fare delle delle esplorazioni spaziali. Un robot ovviamente non come quelli che possiamo immaginarci che che vediamo per esempio nel film. È è un piccolo robot con quattro o sei ruote eh che in questa foto sembra un molto semplice ma in realtà ha numerosissimi strumenti a bordo. Per esempio può avere delle telecamere, dei sensori, dei microfoni eh dei pannelli solari per per riuscire a captare la luce del sole e a generare potenza. Quindi un robot molto sofisticato che serve per viaggiare, per esplorare delle zone dove l'uomo purtroppo per diverse ragioni ancora non può arrivare. Questo schema ci mostra eh tutti i rover o le sonde che in generale sono atterrate o su Marte o sulla Luna. Quelli che vediamo in rosso sono dei rover che eh sono arrivati su Marte e gli altri invece sono arrivati sulla Luna. Eh noi oggi ovviamente ci concentreremo su su questi rover atterrati su Marte. Sono stati messi in ordine a seconda della distanza che hanno percorso sul pianeta rosso. Per esempio qui in basso vediamo il rover Sojourner. Il rover Sojourner fu il primo rover che fu mandato dalla NASA su Marte nel novantasette. Eh e al tempo percorse eh cento metri. Ovvero per noi oggigiorno cento metri non sono niente. Cento metri su Marte soprattutto nel millenovecentonovantasette era è stato un successo davvero è impressionante. Qui vediamo il rover Spirit. Il rover Spirit fu mandato nel duemilaquattro su Marte con il rover Gemello Opportunity che vediamo qui in alto perché è stato il rover che ha percorso la maggior distanza sul sul pianeta rispetto a tutti gli altri rover che che fino ad ora hanno abbandonato la Terra. E infine qui vediamo il rover Curiosity. Il rover Curiosity fu mandato nel duemilaquattro su Marte ed è attualmente presente sul pianeta. Questa foto ci mostra questi tre rover dei quali vi ho parlato. Qui possiamo vedere il piccolo rover Sojourner. Qui vediamo il rover Spirit Opportunity, due rover gemelli completamente uguali. E qui vediamo il il rover Curiosity, il rover che nel duemilaquattro è arrivato su Marte. Notare ecco nel giro di dieci, quindici anni il cambiamento tecnologico da un rover partendo dal Sojourner all'ultimo rover. È impressionante davvero il passi avanti che siamo riusciti a fare nell'ambito delle esplorazioni spaziali e nell'ambito della tecnologia in generale. Allora concentriamoci ora sul rover Sojourner. 83 Sol. Un Sol è pari più o meno a un giorno terrestre. Esattamente è un giorno e 40 minuti. Questo rover, la missione di questo rover Sojourner era stata pensata per una durata iniziale di 7 Sol, quindi più o meno una settimana, con la remota possibilità di riuscire ad arrivare a 30 Sol, più o meno per capirci un mese. Questo rover sopravvisse su Marte per ben tre mesi, quindi andò ben oltre alle aspettative della NASA. In questo video possiamo vedere un'animazione dell'arrivo del rover su Marte. Allora fu mandato nel 97, aterrò nel luglio del 97 e furono principalmente tre gli obiettivi di questo rover, perché in realtà fu mandato letteralmente per testare il terreno per l'arrivo dei due rover molto più sofisticati che sarebbero arrivati qualche anno dopo, che erano appunto il rover Spirit e il rover Opportunity. Quindi tre obiettivi principali. Prima di tutto testare il movimento delle ruote sul suolo marziano. Il rover sojourner è stato il primo veicolo con ruote a atterrare su un pianeta, ovviamente un pianeta diverso dal nostro, e quindi per la prima volta la NASA ha voluto studiare il disegno delle ruote di questo rover per riuscire a capire se fosse un disegno ottimale per le ruote dei futuri rover che sarebbero arrivati sul pianeta. Il secondo obiettivo era studiare la generazione di potenza grazie ai pannelli posti nella parte superiore del rover. E il terzo obiettivo, e forse direi il più importante, è studiare il movimento semiautomatico del rover. Dovete sapere che questo è un concetto molto importante. Non è possibile controllare in tempo reale i rover su Marte, ovvero la comunicazione dalla Terra a Marte impiega più o meno 22 minuti, ovvero se noi mandiamo un comando in questo momento su Marte il rover lo riceverà tra undici minuti e noi riceveremo la risposta dal rover tra altri undici minuti. Quindi come potrete immaginare è praticamente impossibile controllare dalla Terra in tempo reale, significa in questo stesso preciso istante un rover che si trova in questo momento su Marte. Per questo motivo si parla di movimento semiautomatico del rover, ovvero sì con anticipo si può, vedendo attraverso le telecamere del rover, indicare il percorso migliore al rover, però è anche vero che se il rover mentre si sta muovendo si trova davanti una roccia, per esempio, ovviamente dalla Terra non c'è il tempo sufficiente per riuscire a spostare il rover o a dirgli schiva la roccia, deve essere in grado da solo di riuscire appunto a schivarla o di studiare il terreno tutto intorno e di scegliere il percorso migliore per arrivare nel punto in cui si vuole appunto arrivare. Allora, qui vediamo una foto del rover, nella parte superiore vediamo il pannello solare, qui vediamo la telecamera anteriore, c'era una telecamera posteriore che ci ha mandato le prime foto di Marte, che ci hanno permesso di formulare delle teorie rispetto alla presenza nel passato di acqua su questo pianeta. L'ultimo comando che fu mandato al rover fu quello di girare intorno al lander, che come abbiamo visto è la parte dell'orbiter che atterra sul pianeta, purtroppo si persero le comunicazioni e non si sa se effettivamente il rover riuscì a compiere quest'ultima missione. E parliamo ora dei rover Spirit Opportunity. Allora, due rover completamente uguali, rover gemelli si chiamano. Iniziamo per esempio con, parlando di Spirit, allora, si pensava a una durata iniziale della missione di sette, di scusate, di novanta giorni. In realtà questo rover dal 2004 rimase operativo fino al 2010, quindi stiamo parlando di sei anni. Andò anche in questo caso ben oltre alle aspettative della NASA e la particolarità di questo rover è che all'inizio sembrava non scoprire nulla di interessante, ovvero tutte le foto che mandava sulla Terra mostravano rocce tutte uguali, sembrava che non ricevessimo mai informazioni che potessero essere rilevanti per le ricerche della NASA. Fino a quando poi nel 2007 con le sue ruote rimase incastrato in un terreno nel quale fece presa con le ruote per riuscire a liberare le ruote posteriori che erano rimaste diciamo incastrate in questo terreno e scavò un solco e grazie alle telecamere la NASA vide della sabbia, del silicato puro, della sabbia come bianca, che era silicato puro al 90% in forma morfa che è un materiale che di solito si trova vicino a sorgenti termali per esempio, quindi che rappresenta l'ambiente adatto allo sviluppo di ipotetiche piccole forme di vita come possono essere per esempio i microbi. In questa foto vediamo la parte superiore del rover con i suoi pannelli solari, sono molto interessanti questi pannelli solari perché furono un po' la causa che portò il rover a finire la sua missione. Tutto iniziò più o meno nel 2007 quando una tempesta di sabbia iniziò a riempire un po' questi pannelli e quindi nel momento in cui il rover non ricevette l'apporto energetico necessario, la NASA dovette spegnere le comunicazioni con il rover. Qui possiamo parlare di uno strumento molto importante del rover che è il mission clock, in italiano sarebbe l'orologio della missione. Questo strumento misura i livelli energetici del rover, quindi nel momento in cui l'apporto energetico scende al di sotto degli standard operativi, il mission clock si attiva e il rover entra in safe mode, ovvero in uno stato nel quale spegne tutti gli strumenti non essenziali, spegne le comunicazioni con la Terra e diciamo rimane in attesa fino a quando poi l'energia ricevuta dai pannelli solari torna agli standard operativi e quindi il mission clock si riattiva, riaccende il rover e si riattivano appunto tutti gli strumenti necessari per la missione del rover e anche la comunicazione con la Terra. Quindi che cosa successe? Che in un primo momento quando l'apporto energetico fu inferiore la NASA riuscì a posizionare il rover su un terreno con una pendenza che permettesse ai suoi pannelli solari di ricevere la luce solare necessaria. Successivamente arrivò l'inverno marziano che dura il doppio rispetto al nostro. La temperatura del rover scese molto e questo è un altro concetto molto importante. I rover la loro temperatura deve essere compresa tra i 40 gradi e i meno 40 gradi per fare in modo che i suoi strumenti non subiscano danni. La sua temperatura scese molto e addirittura per due settimane non si ebbero notizie di questo rover. Fino quando fortunatamente poi nel gennaio del 2008 del vento ripulì un po' i suoi pannelli solari quindi sembrava che il rover potesse ricominciare con la sua missione ma purtroppo pochi mesi dopo si trovò intrappolato in un terreno che dall'aspetto normale che nascondeva della sabbia molto soffice quindi facendo presa con le ruote non riuscì più a liberarsi. La NASA fece numerosissime prove per riuscire a liberare questo rover. Fece delle prove in simulazione quindi a computer e anche come possiamo vedere in questa foto creò un un piccolo prototipo del rover cercando anche di riprodurre un po' l'ambiente di Marte per per riuscire a capire quale fosse il modo migliore di riuscire a liberare questo rover da dalla trappola di sabbia nel quale era rimasto incastrato ma purtroppo forse furono sei mesi di tentativi di riuscire a liberare il rover e non ci fu modo. Per questo motivo in un primo momento si ridisegnò il tipo di missione considerando il rover una piattaforma stazionaria quindi non si sarebbe più mosso e avrebbe inviato foto panoramiche dalla posizione in cui si trovava o avrebbe studiato il terreno diciamo tutto intorno ecco. Il problema fu che non riuscendo più a muovere il rover non si potè posizionare su un terreno con una pendenza come nell'inverno anteriore che gli permettesse ricevere l'energia necessaria dal sole e per questo motivo quando poi arrivò l'inverno marziano si attivò il mission clock quindi entrò in safe mode ma la sua temperatura scese al di sotto dei meno 40 gradi arrivò forse a meno 54 meno 56 gradi e si pensa che in queste condizioni di freddo il mission clock si ruppe e per questo motivo nonostante poi molto probabilmente i livelli energetici del rover aumentarono il rover non si risvegliò più rimase un po' intrappolato diciamo in questo limbo temporale perché il mission clock non riuscì più a risvegliarlo e per questo motivo finì questa missione del rover spirit con il gemello opportunity fu tutta un'altra storia anche in questo caso si pensava un funzionamento di almeno 90 giorni e siamo arrivati fino al 2018 quindi 15 anni con il rover opportunity che senza dubbio è stato il più grande successo della nasa questo rover sempre nel 2004 partì dalla terra nel 2004 e atterrò in un'altra in un'altra zona di marte e diversamente dal suo gemello che all'inizio come ho già detto non ci mandava nulla di interessante questo rover praticamente sin dalla prima foto ci mandò delle informazioni molto importanti sul pianeta per esempio una delle prime foto mostrava una roccia stratificata esposta segno di un'antica presenza di acqua sul pianeta e mandò inoltre delle foto che mostravano delle tracce di ematite anche in questo caso segno di acqua allo stato liquido presente sulla superficie del pianeta e inoltre quando nel 2010 stava svolgendo la sua missione nel crit in un cratere chiamato cratere Endevaur fotografò delle formazioni di tipo argilloso che testimoniano non solo la presenza come già con le prove anteriori di acqua nel passato ma anche il fatto che quest'acqua potesse avere un pH neutro e che potesse quindi essere potenzialmente adatta alla nascita e alla presenza di vita sul pianeta rosso qui possiamo vedere un un video del rover opportunity superò numerose difficoltà fino a quando purtroppo nel nel 2018 che fu l'anno in cui terminò la sua missione già allora nel 2015 diciamo che tagliò l'ipotetico traguardo della maratona olimpica arrivando appunto ai della maratona scusate arrivando ai ai 42 chilometri quindi il rover che in assoluto ha percorso il maggior numero di chilometri su un pianeta diverso dal nostro e e poi cosa successe nel 2018 nel giugno del 2018 arrivò una forte tempesta di sabbia che obbligò ovviamente la nasa a spegnere tutte le comunicazioni e il rover entrò in safe modo e si attivò il mission clock purtroppo quando questa tempesta passò fu una tempesta molto forte e oscurò il cielo di marte molto più molto di più rispetto alle precedenti tempeste di sabbia e per questo motivo nonostante misurando la temperatura del rover si dedusse che la temperatura non era scesa al di sotto dei meno 40 gradi purtroppo il fatto che il cielo fosse molto scuro non permise ai pannelli solari del rover di ricevere l'energia necessaria e anche in questo caso molto probabilmente ci fu una rottura del mission clock ci furono diverse comunicazioni per ben sei mesi la nasa cercò di rimettersi in comunicazione con questo rover ma ma non ci fu modo purtroppo e qui una una particolarità ovvero che nel nel giugno del 2018 che fu quando si si ricevette l'ultima informazione l'ultimo messaggio da questo rover l'ultimo messaggio fu proprio quello che possiamo vedere qui ovvero la mia batteria è bassa e sta iniziando a diventare scuro e come già detto per ben sei mesi si si cercò di ristabilire la comunicazione con il rover non ci fu modo e per questo motivo l'ultimo messaggio che la nasa mandò al rover fu una canzone fu la canzone al bisigno di billy holiday che è una delle strofe direi più importanti dice ti troverò nel sole del mattino e quando ci sarà una nuova sera guarderò verso la luna ma vedrò te e parliamo ora del rover curiosity allora in questa foto possiamo vedere un rover completamente diverso rispetto rispetto al rover spirit e al rover opportunity molto più sofisticato con un maggior numero di strumenti un rover molto più grande con un maggior numero di telecamere di microfoni insomma un salto tecnologico piuttosto importante direi allora questa missione era stata pensata questa volta per una durata di un anno marziano un anno marziano sarebbe più o meno sarebbero due anni terrestri in realtà dal 2012 è ancora operativo su Marte e molto probabilmente tra un anno farà dieci anni sul pianeta rosso curiosità su questo rover o scoperte diciamo importanti di questo rover innanzitutto come vedremo ora in questo video ha un braccio robotico con un con un trapano che gli permette studiare ovviamente il terreno di Marte e anche le rocce le rocce di Marte e grazie a questo trapano ha scoperto sul pianeta rosso i mattoni della vita i mattoni della vita sarebbero carbonio zolfo idrogeno ossigeno quindi il mix perfetto che 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 potrebbe essere una buona dimostrazione una buona teoria eh eh a dimostrazione del che che dimostri la presenza nel passato e perché no anche nel presente di piccole forme di vita su questo pianeta inoltre eh fotografo minerali minerali argillosi e trovò delle tracce di sali eh questa è la dimostrazione di presenza come già era stato dimostrato dai precedenti rover di acqua su questo pianeta ma addirittura queste queste tracce di sali possono dimostrare che quest'acqua fosse un'acqua dolce e addirittura che potesse essere potabile ehm allora poi questo rover fotografò delle rocce ehm in quel momento molto probabilmente si trovava nel letto di un fiume perché queste rocce erano rocce lisce e arrotondate come se fossero rotolate fino a quel punto per chilometri quindi si pensa appunto che che in quel momento il rover si trovasse proprio nel letto di un fiume e che la corrente di questo fiume avesse spinto queste rocce fino appunto a quel punto e e infine una curiosità questo rover ha ha misurato eh le radiazioni ricevute durante il suo viaggio dalla Terra a Marte che se non l'ho già detto sono più o meno sei mesi di viaggio durante tutto questo viaggio il rover ha misurato la quantità di radiazioni ricevute e purtroppo non sono notizie molto positive per i futuri astronauti perché è come se una persona eh facesse delle radiografie ogni due tre giorni per praticamente sei mesi quindi notizie non molto positive per gli astronauti ma vedremo che cosa si inventeranno poi i primi che arriveranno su Marte che viaggeranno verso il pianeta rosso e con questo video del curiosity su Marte qui vediamo un un selfie fatto dal dal rover e passiamo ora a parlare della Mars Sample Return quindi la la missione per il recupero di campioni dal pianeta della NASA in collaborazione con la ESA allora questa missione sono principalmente tre parti la prima sarebbe la Mars 2020 della NASA con il rover Perseverance la seconda sarebbe la Sample Retriever Lander del Sample Fetch Rover della ESA e l'ultima eh l'Air Return Orbiter della ESA allora in cosa consistono queste missioni qui vediamo un piccolo schema eh i tre razzi rappresentano ovviamente le tre missioni questa rappresenta la Mars 2020 ovvero la la missione della NASA qui possiamo vedere il rover Perseverance su Marte che eh recupera del del terreno marziano lo lo inserisce all'interno di di provette di campioni che posiziona poi in punti strategici del pianeta e poi eh si pensa nel duemilaventisei dico si pensa perché poi queste missioni eh cambiano molte volte ci sono dei dei ritardi ovviamente in questo tipo di missioni eh si pensa che nel duemilaventisei la la NASA con un eh scusate la ESA arriverà su Marte qui vediamo il il Lander e con il Sample Fetch Rover quindi un rover della ESA si questi campioni saranno recuperati riportati al Lander dove un ehm Mav Mars Ascendent Vehicle ovvero un razzo li porterà in orbita intorno al pianeta dove già dal duemilaventisei in teoria dovrebbe esserci un orbiter della ESA orbiter come abbiamo visto prima è quella parte della del veicolo spaziale che resta in orbita intorno al pianeta questo orbiter dovrebbe eh recuperare il campione e riportarlo poi sulla terra quindi qui c'è un piccolo schema eh un piccolo una piccola animazione questo sarebbe il rover Perseverance che posiziona i campioni duemilaventisei il rover il Sample Fetch Rover ecco qui eh il Lander della della ESA con il Sample Fetch Rover che eh recupera tutti i campioni del del rover Perseverance li riporta Lander li li carica sul MAV sul Mars Ascendent Vehicle che porta questi campioni in orbita intorno a Marte dove un orbiter della ESA li sta aspettando recupera questi campioni e li riporta sulla terra nello Yuta in America quindi questa più o meno è eh è la missione la Mars Emperor Return Mission parliamo della prima parte della missione ovvero la Mars 2020 con il rover Perseverance. Allora rover Perseverance lo possiamo vedere in questa meravigliosa foto con con il piccolo elicottero il piccolo drone Ingenuity che è stato inserito all'interno della pancia di questo rover. Allora rover Perseverance è eh molto probabilmente uno dei progetti più ambiziosi della NASA ci sono voluti più o meno sette anni di preparazione e la parte difficile di questa missione soprattutto è stato innanzitutto il viaggio verso Marte ovviamente che che è molto complicato ma la parte più difficile è l' atterraggio cioè riuscire ad atterrare eh su Marte con un rover è molto difficile questo lo sanno le agenzie spaziali di tutto il mondo che che hanno cercato di arrivare su Marte con i propri con i propri rover fino ad oggi e come abbiamo già detto la maggior parte delle missioni purtroppo non sono andate a buon fine. Eh allora eh questa questa animazione ci mostra la finestra temporale ovvero la finestra temporale è il momento in cui due pianeti in questo caso la Terra e Marte sono il più vicini possibili. Ehm il momento in cui è stato mandato questo rover che è stato il trenta luglio era un momento molto importante perché eh già di per sé questa missione era stata eh posticipata più o meno di un mesetto se non sbaglio eh dovuto a dei problemi con il razzo che avrebbe trasportato il rover su Marte e anche ovviamente alla alla crisi del coronavirus che ha obbligato la NASA a riorganizzare i turni di lavoro ma se il rover non fosse partito il trenta luglio come massimo la NASA avrebbe avuto eh un mese per riorganizzare la missione se no avrebbe dovuto aspettare due anni perché a causa di questo orizzonte temporale ovvero ehm si stava aspettando il momento in cui la Terra era più vicina a Marte qui vediamo il Sole questa sarebbe ovviamente la Terra e questa Marte quindi si stava aspettando il momento in cui la Terra era più vicina a Marte sfruttando anche il movimento di rotazione del pianeta intorno al Sole per poter mandare il il rover su Marte questo lo sanno eh questo questo concetto della eh della finestra temporale ovviamente lo sanno le agenzie di tutto il mondo che ne hanno approfittato per mandare per esempio nel caso degli degli Emirati Arabi eh un se non sbaglio un orbiter in orbita intorno a Marte un satellite e nel caso dell'agenzia spaziale cinese il proprio rover che che atterrato su Marte è stato mandato eh sempre durante questo questo periodo della finestra temporale nel luglio del dell'anno scorso e è rimasto poi in orbita intorno al pianeta ed è atterrato più o meno due settimane fa sul pianeta. Allora, torniamo al rover Perseverance. È molto simile al rover Curiosity. Vedendolo così in un primo momento forse ci sembra praticamente uguale. In realtà è molto diverso, ovvero eh la NASA ha studiato tutti gli errori che erano stati commessi con il rover Curiosity e ha realizzato delle migliorie incredibili con il Perseverance. Per esempio eh le ruote sono state completamente ridisegnate per permettere al rover eh un miglior appoggio sul terreno, un miglior movimento eh sul sulla sabbia di Marte eh anche questa questa torretta che sembrano uguali, no? Queste due torrette con la telecamera nella parte superiore la telecamera del Perseverance è una telecamera completamente eh diversa rispetto a quella del Curiosity eh ci ci arrivano delle foto a alta definizione delle foto che si vedono molto molto bene cosa molto positiva per noi che le vediamo ma soprattutto per la NASA che grazie a queste foto studia anche un po' l'evoluzione geologica diciamo di Marte. Ehm allora eh un aspetto molto importante entrambi i rover tanto il Curiosity come il Perseverance sono atterrati su Marte eh grazie all'apertura ovviamente di un paracadute che li ha aiutati nell'atterraggio e poi questo argano con retrorazzi ehm che con queste con queste corde ovviamente ha aiutato il rover a posarsi diciamo delicatamente sul terreno. La differenza eh che c'è invece con il rover Perseverance eh sta in un sistema chiamato Range Trigger eh è una tecnologia ehm di apertura automatica del paracadute ovvero eh studiando la distanza tra il terreno di Marte quindi il suolo e il punto in cui si trovava nel momento dell'atterraggio il rover e anche la velocità con la quale stava atterrando il paracadute si è aperto con anticipo o più tardi o eh si è aperto dopo ehm perché perché si cercò di atterrare in una zona che fosse interessante a livello di di studi ovviamente a livello a livello geologico e ehm diciamo che questo sistema Range Trigger ha eh permesso di ridurre del cinquanta per cento la zona l'area di atterraggio del rover quindi aprendosi eh con anticipo o dopo ha permesso appunto a a alla NASA di atterrare più o meno nella zona in cui appunto si si pensava che sarebbe iniziata la missione ehm questo rover è un rover incredibile sono tre metri per tre metri eh a ventitré fotocamere due microfoni e è costato alla NASA un totale di centotrenta milioni di dollari perché perché è stato mandato questo rover su Marte? Allora tre obiettivi principali ehm il primo è studiare l'abitabilità del terreno quindi eh studiare se potesse essere un terreno ehm adatto alla vita su Marte nel presente o o perché no anche nel nel scusate nel passato o perché no anche nel presente di di ovviamente di piccole forme di vita e anche trovare ovviamente delle prove di questa di questa abitabilità del terreno deve trovare delle prove della presenza di vita nel passato o nel presente su Marte. Il secondo obiettivo forse il più importante è quello di di riportare sulla terra dei campioni con del terreno marziano. Ovviamente come abbiamo visto è un rover molto sofisticato con numerosissimi strumenti eh ma non non sono mai come gli strumenti che abbiamo noi a disposizione qui sulla terra quindi riuscire a riportare per la prima volta eh dei campioni di Marte sulla terra sarebbe eh davvero molto positivo per per gli studi non solo a livello geologico ma anche a livello di eh di scoperte di di vita o possibili scoperte di questo pianeta e eh un terzo obiettivo sarebbe quello di studiare ehm che cosa offre a livello naturale questo pianeta ovvero eh per i futuri astronauti che arriveranno sul pianeta rosso come si possono sfruttare le risorse naturali che ci offre questo pianeta questo lo vedremo tra tra qualche diapositiva. Allora eh il rover è atterrato appunto grazie al sistema range trigger nel cratere G0 eh come possiamo vedere in questa foto eh molto probabilmente stiamo parlando di un cratere che eh molto tempo fa eh poteva essere un lago si pensa che un asteroide si schiantò contro la superficie di Marte creando questo solco che si riempì poi d'acqua e eh possiamo vedere qui in questa foto che molto probabilmente questo potrebbe proprio essere il fiume sembra il letto di un fiume che sfocia poi all'interno di di questo lago che successivamente quando le temperature aumentarono eh ovviamente il lago si prosciugò e in questo momento abbiamo questo questo cratere profondo cinquecento metri dove si arriva addirittura a una temperatura di di meno novanta gradi. E perché scegliere questo cratere? Perché eh si pensa appunto che eh dopo che quest'acqua si prosciugò eh sui fondali ci possano essere i sedimenti e dei sedimenti e dei minerali che possono essere il mix perfetto per alimentare a piccole forme di vita come possono essere dei microbi quindi si pensa che ci siano maggiori probabilità eh raccogliendo dei campioni eh da dal dai fondali di questo lago di eh scoprire delle tracce di vita su questo pianeta e per questo motivo all'interno della pancia del rover sono state inserite queste provette sono quarantatré provette eh per la raccolta appunto dei campioni quindi il rover con un braccio eh robotico sceglierà eh delle rocce o del terreno che possa essere interessante per degli per per realizzare appunto degli studi le perforerà con il suo trapano e con il braccio robotico recupererà del terreno lo sigillerà all'interno di queste provette che poi posizionerà in punti strategici che saranno ovviamente memorizzati dal rover e che passeranno poi al sample fetch rover della ESA eh per recuperare appunto queste provette posizionate oggi o eh durante quest'anno o nei prossimi anni da questo rover. Queste provette possiamo vedere qui una foto delle provette. Allora sono provette in titanio eh ovviamente questa è la la provetta e questo che vediamo qui in marrone sarebbe il il terreno di Marte, la sabbia di Marte. Ehm allora è stato scelto il titanio perché è un materiale che dovrebbe eh assicurare eh una durata della della provetta di più o meno vent'anni senza che l'ambiente marziano le degradi. E non so forse sorge spontanea la domanda perché raccogliere oggi eh questi campioni? Oggi che in realtà sì nel duemilaventi sei forse partirà il sample fetch rover ma forse non sappiamo esattamente quando effettivamente arriverà. Quindi perché non aspettare eh un momento più prossimo all'arrivo del nuovo rover o addirittura quando il rover sarà direttamente sul pianeta e e potrà recuperare praticamente allo stesso tempo queste queste provette. Perché dovete sapere che con ogni viaggio verso Marte contaminiamo sempre di più questo pianeta. Quindi nonostante eh nelle agenzie spaziali si lavori in ambienti il più possibile sterili e addirittura i rover siano portati a temperature molto molto alti per cercare di sterilizzarli nel momento in cui poi sono mandati sul pianeta eh una sterilizzazione eh del cento per cento non è possibile e per questo motivo eh con ogni con ogni spedizione verso il pianeta già con quando ci sarà l'arrivo del sample fetch rover già con il nuovo rover dell'agenzia spaziale cinese che è arrivato lo stiamo contaminando sempre di più e anche per questo motivo tra queste queste tra queste quarantatré provette ci sono anche cinque provette witness che sono già state riempite sulla terra con alcuni materiali per esaminare eventuali tracce terrestri o dell'atterraggio a confronto con le altre provette e verificare effettivamente la ehm e verificare effettivamente che che queste provette eh siano sterili e non siano state ecco contaminate da noi. E qui vediamo un rover della eh scusatemi un video dell'atterraggio del rover su Marte sicuramente l'avrete già visto eh è un'animazione il momento in cui il Perseverance eh atterrò su Marte il diciotto febbraio di quest'anno ormai tre quattro mesi fa apertura del del paracadute col sistema range trigger del quale vi ho parlato quindi in questo momento si stacca l'argano con retrorazzi che aiuta il rover a avvicinarsi al suolo di Marte e ora con delle corde questo argano aiuta il rover a posarsi delicatamente su Marte successivamente eh queste corde ovviamente si staccano e l'argano si schianterà in un'altra zona molto lontano dal Perseverance ovviamente per non mettere in pericolo né la missione né né il rover e qui rivediamo il il momento dell'atterraggio del rover sul sul pianeta rosso. Allora eh prima vi ho parlato degli obiettivi del rover vi ho detto che il terzo era studiare un po' le le risorse naturali che ci offre Marte e che possiamo studiare e che possiamo sfruttare eh per un'ipotetica vita nel futuro su questo pianeta. Tra gli strumenti inseriti all'interno della pancia del rover troviamo appunto MOXI. MOXI è uno strumento per la generazione di ossigeno a partire dall'anidride carbonica di Marte ovvero dovete sapere che l'area di Marte è costituita per il novantasei per cento da CO2 da anidride carbonica. Grazie a questo strumento si può produrre ossigeno partendo da questa anidride carbonica. Sono stati fatti dei dei degli esperimenti, sono stati prodotti eh cinque grammi di ossigeno, in generale MOXI riesce a produrre dieci grammi di ossigeno in un'ora. Il problema è che questo strumento deve essere portato a temperature molto alte, a forse 800 gradi centigradi e eh come vi ho già detto nel cratere G zero si arriva a temperature di meno novanta gradi. Quindi questo strumento richiede un un apporto energetico importante e inoltre nel momento in cui ehm questo strumento sta sta generando ossigeno il rover non può fare nient'altro. Quindi diciamo un po' un'ora persa per il rover ma un'ora guadagnata per noi e per i futuri astronauti che perché no potrebbero usare una tecnologia del genere per per sopravvivere con ossigeno su questo pianeta. E parliamo ora degli easter eggs. Allora gli easter eggs sono ehm dei messaggi nascosti che la NASA si diverte sempre a a mettere un po' sui suoi rover che che arrivano poi su Marte. Per esempio qui vediamo il paracadute allora eh nel momento dell'apertura del paracadute si è visto appunto questa foto che mostra eh un un insieme di colori sarebbe un bianco un rosso che rappresentano un un linguaggio binario è un linguaggio che si usa nell'ambito del dell'informatica e della ehm e dell'elettronica è un linguaggio eh costituito da zero e uno e con questi colori con il rosso con il bianco all'interno del paracadute è stata scritta la frase there are mighty things osate cose meravigliose che è un po' il motto del 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 JPL che è il Jet Propulsion Laboratory la sezione della NASA se non l'ho già detto che si occupa eh dei rover che che si mandano su Marte quindi questo è un po' il loro motto e fu scoperto questo messaggio nascosto questo easter eggs dopo sei ore dall'apertura del paracadute. Qui vediamo il bastone di Esculapio. Il bastone di Esculapio è un simbolo di guarigione medicina eh che è stato posto sul rover per ovviamente come omaggio a tutto il personale sanitario che ci ha aiutato tanto tanto durante questa crisi del coronavirus. E qui vediamo eh secondo me questo easter eggs è bellissimo vediamo le incisioni di tutta la famiglia dei rover della famiglia di tutti i rover che sono arrivati fino ad oggi su su Marte quindi vediamo tutti quelli che abbiamo visto noi oggi il rover Sojourner, Spirit con Opportunity, i due rover gemelli, il rover Curiosity e il Perseverance con il piccolo elicottero Ingenuity. Questa sarebbe la Muscam Z. La Muscam Z è una delle fotocamere più sofisticate del rover, fa delle foto colori e anche permette di fare lo zoom su queste foto. Eh qui sono state incise due frasi, Towards One Beginning, due mondi un solo inizio e la gioia della scoperta, Joy of Discovery, che sarebbe nella parte posteriore della Muscam. E inoltre qui possiamo vedere incisi i momenti diciamo più importanti della vita dell'uomo, i dinosauri, gli uomini e il razzo che ci porta ci porterà forse tra qualche anno su Marte a scoprire perché no la storia della vita di di un'altra civiltà. E questa è una targhetta che è stata posta dalla NASA ovviamente sul rover Perseverance, dove è stato inciso un sole, i cui raggi sono un codice Morse che significa Explorers One e inoltre in questa parte superiore troviamo tre chip con i nomi di tutti coloro che hanno aderito a un'idea diciamo della NASA, si poteva accedere a una pagina web dove si poteva indicare il proprio nome ovviamente gratuitamente e questo nome sarebbe stato inserito all'interno di questi chip e sarebbe poi stato mandato su Marte. E infine, allora la supercam è una combinazione di fotocamere e laser per cercare prove di vita e all'interno di questa supercam è stato inserito un pezzo di un asteroide ovvero diciamo che la NASA ha voluto restituire a Marte un pezzo di Marte, questo sarebbe un frammento di un meteorite marziano che era stato trovato anni fa in Antartide. E spendiamo ora due parole anche per il drone Ingenuity, un drone è un piccolo elicottero, era stato inserito nella pancia del rover, è viaggiato su Marte con il rover. Allora qui possiamo vedere un esperimento, questo drone non ha con sé degli strumenti scientifici, di per sé rappresenta un esperimento scientifico, ovvero ovviamente è difficilissimo riuscire a far volare un corpo su un pianeta diverso dal nostro. Bisogna sapere che su Marte l'atmosfera è molto rarefatta, il 99% meno densa della nostra e questo piccolo drone nonostante sia leggerissimo e non abbia strumenti con sé pesa più della stessa atmosfera, quindi potete capire che ci sono voluti forse nove anni di preparazione per questa parte della missione e è davvero complicato, è un corpo che vola che pesa più dell'atmosfera stessa. Sono stati fatti degli esperimenti, sono andati a buon fine, il rover si è alzato verticalmente di uno o due metri e ha percorso orizzontalmente più o meno 100 metri, qui vediamo il momento in cui è uscito dalla pancia del rover e qui vediamo una foto, un'animazione del rover, nella parte superiore vediamo un piccolo pannello solare che serve per generare l'energia per muovere il drone e inoltre le pale si muovono per esempio otto volte più velocemente rispetto a come si muoverebbero sulla Terra, quindi non è stato facile riuscire a far volare questo oggetto su questo pianeta e in ogni caso potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era per le spedizioni su Marte perché dovete sapere che i rover diciamo che sono lentissimi, ovvero un rover che in un giorno riesce a percorrere 200 metri è un rover molto veloce, quindi per capirci un rover non riesce a percorrere molti metri in un giorno, questo drone è riuscito a percorrere 100 metri in quanto praticamente un minuto o meno, quindi potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era per le spedizioni su questo pianeta dove perché no i robot potrebbero addirittura volare e permetterci quindi di visitarlo molto più velocemente rispetto a quello che ci permette fare ovviamente un rover. E parliamo ora del Sample Receiver Lander, sarebbe la seconda parte della missione, quindi la parte della quale si occupa la ESA. Qui vediamo il Sample Fetching Rover, ovviamente anche in questo caso questa foto mostra un prototipo. Vediamo qui il piccolo rover, vediamo qui il campione posizionato dal rover Perseverance e qui c'è un piccolo video che ci mostra più o meno come sarà questa missione. Questo è il Sample Fetching Rover, due fotocamere, una nella parte superiore e una qui in basso, con la fotocamera si riconosce il campione, il rover si avvicina e con il braccio robotico recupera il campione, lo mette qui insieme a tutti gli altri campioni e riparte poi alla ricerca, come vediamo la fotocamera gira e riparte alla ricerca del successivo campione che ovviamente nella realtà saranno molto più lontani rispetto a quelli che possiamo vedere in questo video. Allora, questo rover come possiamo vedere è completamente diverso rispetto ad esempio al Perseverance, molto meno sofisticato, molto più piccolo ed è proprio questo che stiamo cercando, ovvero cerchiamo di costruire un rover che sia piccolo, che non pesi molto, che sia agile, che si muova molto velocemente, perché dovete pensare che questo rover dovrebbe riuscire a percorrere 200 metri in un giorno per sei mesi. Vi ho già detto che i rover vanno pianissimo e che riuscire ad arrivare a 200 metri in un giorno vuol dire parlare di un rover molto veloce. Per questo motivo nel disegno di questo rover si cerca la semplicità, si cerca di un rover leggero e che riesca a muoversi il più velocemente possibile. ed è in questa parte della missione che stiamo collaborando noi nello Space Robotics Lab, nel laboratorio di robotica spaziale dell'Università di Malaga. In particolare io mi sto occupando della parte di programmazione. Qui vediamo una foto del rover che sto usando in simulazione, ovvero quando si fanno questi progetti ci sono più o meno tre parti. Allora, la prima parte è la parte che si fa in simulazione, quindi su un computer. Successivamente si passa a fare delle prove con dei prototipi del rover reale e quando poi, ecco, diciamo che queste prove sono state positive, sono andate a buon fine, si può montare tutto il programma sul rover che poi definitivamente andrà sul pianeta o ecco dove deve andare, dipendendo dalla missione. Quindi questo rover abbiamo fatto delle simulazioni usando dei programmi, per esempio uno che vedremo nei prossimi video è Vortex Studio, ci permette di muoverlo un po' come se fosse il rover reale. Io, come ho già detto, mi sto occupando della parte di programmazione, quindi ho programmato il movimento. All'inizio doveva essere il movimento solamente del braccio robotico, in realtà in questo momento mi sto occupando del controllo di tutto il rover, ovvero io dico al rover come muoversi, dove muoversi, dove andare. Grazie a queste fotocamere noi possiamo riconoscere il campione, allora noi più o meno sappiamo dove è il campione, ma grazie a queste fotocamere nel momento in cui il rover si avvicina al campione più o meno a una distanza di tre metri, io inizio a chiedere letteralmente a questa fotocamera superiore chiamata NAFCAM la posizione del campione e la NAFCAM mi dà esattamente la posizione e l'orientamento del campione. Successivamente, quando si avvicina ulteriormente per posizionare poi il rover esattamente davanti al campione, richiedo alla lockcam di nuovo tutte le coordinate del campione e quando le ho ricevute muovo il braccio robotico, quindi quando sono sufficientemente vicina e sono sicurissima della posizione del campione, muovo il braccio robotico che appunto recupera il campione. Quindi, io mi sto occupando di questa parte di programmazione. La parte di simulazione si fa su un computer con sistema operativo Windows, io sto programmando su un sistema operativo Linux con linguaggio di programmazione C++ e lo stiamo usando, lo sto usando nel framework ROC, sarebbe un framework dell'Agenzia Spaziale, della ESA. E diciamo questa parte di intelligenza artificiale non me ne occupo io, se ne occupa un mio collega, ma spendiamo due parole anche per questa parte perché è molto interessante, ovvero non so, forse vi chiederete come può essere che tu chiedi a una fotocamera le coordinate del campione e la fotocamera te le dà. Tutto questo si fa con intelligenza artificiale, ovvero si fanno delle foto a un oggetto, per esempio in questo caso al campione, si fanno diverse foto al campione, da diverse angolazioni, numerosissime foto, si mostrano alla telecamera e letteralmente si fa, si allena la rete neuronale, ovvero la rete neuronale è in sé la telecamera che, grazie a questo allenamento, dopo aver visto numerosissime foto del campione nelle quali gli diciamo, per esempio cerchiandolo o con un rettangolo questo è il campione, nel momento in cui gli mostriamo una nuova foto dove c'è il campione, la videocamera da sola può dirci il campione è qui e fa appunto un cerchio o un rettangolo intorno al campione. Questo è Vortex Studio, questo è il programma di simulazione che stavamo usando prima, questo video è molto vecchio, questo fu un video che ho fatto forse a dicembre che poi era stato mandato alla ESA quando abbiamo dovuto presentare diciamo la prima parte della missione, la prima parte della simulazione, qui ancora non ci sono le telecamere, qui semplicemente io ho detto al rover dove si trovava in quel momento il campione e quindi appunto il rover si è mosso, si è avvicinato al campione e quando è stato sufficientemente vicino ha mosso il braccio robotico e ha recuperato il campione. E qui possiamo vedere invece, questa sarebbe Unreal Engine, ovvero questo è un altro programma di simulazione completamente diverso, forse qualcuno lo conoscerà perché è uno dei più famosi programmi che di solito si usano per la programmazione dei videogiochi. Allora, come possiamo vedere innanzitutto a livello di qualità non c'è neanche non c'è neanche paragone, ovvero ci troviamo praticamente su Marte, con questo con questo programma di simulazione ci troviamo su Marte e vediamo un rover completamente nuovo, vediamo il il riflesso del sole sulle ruote, qui sarebbe ovviamente il campione con il riflesso anche in questo caso e l'ambiente che è praticamente più che reale. Sembra davvero di essere su Marte. E qui vediamo un video, questo video, anche questo video è molto vecchio, in realtà è forse di febbraio. Infatti il rover, come potete vedere, ancora non arrivava al campione, ovviamente adesso arriva al campione e recupera il campione. Questo per mostrarvi un po' la qualità di questo programma di simulazione che stiamo usando, la sabbia di Marte che si colpisce il corpo del rover è davvero bellissimo, questo Unreal Engine è un programma stupendo davvero. E qui vi mostro ora un video che ho finito oggi, che è un video che ci mostra tutta la parte di simulazione che siamo riusciti a sviluppare, che abbiamo finito venerdì. Questo video lo manderemo alla ESA e da questa settimana, in realtà da domani, iniziamo poi la seconda parte del progetto che è il lavoro, diciamo, con il rover reale, con un prototipo, scusatemi, con un prototipo, l'ho detto in spagnolo, con un prototipo di rover reale. Quindi qui possiamo vedere il video. e quindi qui possiamo vedere il video. ecco, questa è la simulazione vera e propria, ovvero in questo momento ci stiamo avvicinando al campione, io sto richiedendo la nav cam, la fotocamera superiore, sto richiedendo la posizione dalla nav cam. Qui vediamo la lock cam, la fotocamera inferiore, e la nav cam la superiore. E qui vediamo appunto il rosso, the nav cam is the sample, ovvero la nav cam ha visto il campione, l'ha visto il rosso, gli ha fatto un rettangolo, un rettangolo rosso e io ho appena ricevuto le coordinate, la posizione e l'orientamento del campione, che possiamo vedere qui nella lock cam già. Sì, qui lo possiamo vedere nella nav cam. Ovviamente più ci avviciniamo, la nav cam è molto alta, è su un metro da terra, quindi già in questo momento non lo vediamo, ma da qui sì che vediamo che ci stiamo avvicinando al campione. Come vedete il rover è molto lento, come nella realtà. Ecco qui iniziamo a vedere il campione e ora quando mi avvicino sempre di più, quando sono molto vicina e devo già fare il movimento finale del braccio, richiedo la lock cam, ovvero dico la lock cam che ormai vede il campione. Dov'è il campione? E la lock cam mi dà tutte le coordinate, come vedremo ora qui. Ecco, ora si ferma il rover, in questo momento nel codice sto richiedendo la lock cam e ecco qui, il campione è stato riconosciuto. E ora non so se si vede qui c'è una freccia verde che sarebbe l'orientamento del campione, quindi già in questo momento io posso abbassare il braccio robotico e recuperare il campione che si muove un po' per la fisica. E quindi finita questa parte, questa parte di simulazione, si iniziano a fare le prove con il rover, con il rover reale, con il prototipo del rover reale. Questo sarebbe l'exoter, un prototipo della ESA. Saremmo dovuti andare qui a marzo, sarei dovuta andare a marzo, la parte di simulazione sarebbe finita a fine febbraio e poi sarei andata nella sede della ESA che è in Olanda, per fare le prove con questo rover, che come possiamo vedere è praticamente identico a quello che ho disegnato, quello che sto usando nel programma di simulazione. Sei ruote uguali, il corpo uguale, la torretta con la fotocamera uguale, qua manca una fotocamera, il braccio, questo braccio è diverso, ma abbiamo anche il braccio uguale a quello che ho disegnato, un Kinova Light 3 stiamo usando. Ecco, lo vediamo qui anche in questo caso in un ambiente il più possibile, diciamo simile all'originale, quello che avremmo su Marte. Purtroppo non siamo potuti, non sono potuta andare per poter lavorare direttamente lì, nel laboratorio di robotica spaziale della ESA, ma fortunatamente non potendo essere andati lì, questo rover ci è stato mandato nel laboratorio dell'Università di Malaga, nello Space Robotics Lab. Qui lo vediamo quando è arrivato, era praticamente smontato, abbiamo dovuto montarlo ovviamente in videoconferenza con l'aiuto della ESA. E qui possiamo vedere il rover montato, in questo caso è aperto perché ovviamente per collegarlo al generatore di energia l'abbiamo lasciato aperto. Qui vediamo le due fotocamere, le ruote, ecco è stato posto su questo mobile perché ovviamente in questo momento in cui siamo ancora in prova, cioè passiamo dalla simulazione a questo prototipo, i codici cambiano un po', ecco il modo in cui per esempio io mando dei comandi al rover cambia rispetto a quello che sto facendo con Unreal Engine. E per questo motivo ovviamente queste prove, almeno per un mese penso che lo lasceremo, scusatemi, su questo mobiletto e faremo delle prove muovendo un po' le ruote, muovendo ovviamente il braccio robotico e poi quando saremo sicuri, o almeno sicuri direi a un 90% che sta funzionando quello che stiamo facendo, lo metteremo su un terreno, un terreno che abbiamo dietro l'Università e faremo delle prove direttamente lì. Ecco, questi siamo noi nel laboratorio dell'Università, qui forse c'è una foto, ci vediamo un po' meglio in questa foto, questo è tutto il team dello Space Robotics Lab, di questa missione ci stiamo occupando io e questo ragazzo, io e questo mio collega, io mi sto occupando appunto della parte di programmazione e lui della parte di visione, delle fotocamere, e in realtà in questo laboratorio ci sono molti progetti a livello europeo, anche dei progetti con dei telescopi, insomma stiamo lavorando in molti ambiti, ma diciamo che i responsabili di questa meravigliosa missione con l'AESA siamo noi due, io sono contentissima ovviamente, qui vediamo nel mezzo il piccolo rover, l'ExoTerra, con il suo braccio, gli abbiamo montato una pinza, questa l'abbiamo montata noi, e qui vediamo un campione che è come quello che abbiamo visto praticamente in simulazione, questo campione ci è stato mandato dall'AESA, ma in realtà anch'io ho disegnato questo campione in un programma chiamato Solidworks, e abbiamo comprato ora una stampante 3D, lo stamperemo in laboratorio e avremo più di un campione, molto probabilmente le prove che faremo sul terreno si faranno con più di un campione in punti diversi, recuperando appunto i vari campioni, molto probabilmente sempre con la stampante 3D faremo una piccola scatoletta dove posizioneremo un po' questi campioni e vedremo come andranno questi esperimenti. E concludo la presentazione con questa foto bellissima del laboratorio di robotica spaziale dell'AESA, come vedete hanno riprodotto io direi al 101% l'ambiente di Marte, questo piccolo rover che potete vedere qui è l'ExoTerra, è il rover che abbiamo noi adesso nel laboratorio dell'università, e niente che dire un peccato non essere potuti andare a lavorare in questo meraviglioso laboratorio, però comunque bisogna pensare che se ci fossi andata avrei dovuto condividere questo meraviglioso rover con moltissimi ingegneri che stavano lavorando con lui e adesso invece ce l'ho tutto per me nel laboratorio, quindi alla fine non so che cosa è meglio. E con questo concludo la mia presentazione e vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione. Siamo noi veramente che ti ringraziamo, siamo fieri di avere una donna italiana insomma in questo staff per questa ricerca così importante. Grazie mille. E se è disponibile magari per rispondere a qualche domanda? Ovvio, sì sì, certo. Io ne avrei una per rompere il ghiaccio all'inizio, vabbè la domanda era l'uomo andrà su Marte, però siccome tu più volte comunque hai affermato che questo è possibile, io ti chiedo anche se forse è come diciamo guardare una palla di cristallo, secondo te, secondo insomma gli ultimi studi, quando questo sarà realizzato? Bella domanda. Allora, è una domanda molto bella. Allora, come ho già detto nell'ambito delle esplorazioni spaziali, ogni volta che c'è una missione può essere che dovrebbe partire magari l'anno prossimo e parte due anni dopo. Infatti l'AESA per esempio dovrebbe mandare, indipendentemente dal sample fashion rover, una missione di un proprio rover su Marte che doveva partire nel 2020, l'ExoMars, e se andrà tutto bene partirà l'anno prossimo. Quindi ecco, questo per dire, ci dicono un anno ma poi non si sa, effettivamente non si sa quando riusciremo a arrivare sul pianeta. Io direi che, allora ovviamente ho letto molti articoli, molte notizie in merito, ci sono persone molto positive che pensano che ci arriveremo forse nel 2026. Io vedendo come sta andando la missione del rover in questo momento penso sia possibile, proprio per quello strumento del quale ho parlato, che sarebbe un po' il MOXI, no? Cioè già ci mostra che l'ostacolo per esempio della generazione di ossigeno su Marte potrebbe essere superato. Ovvio questo strumento genera dieci grammi di ossigeno, però siamo ancora nel 2021, se ci arriveremo nel 2026. Nell'ambito della tecnologia ci sono i cambiamenti, sono nel giro di uno o due anni, i cambiamenti sono stati, sono incredibili. Quindi davvero io penso che sia possibile arrivarci, come dicono, nel 2026. E se non è nel 2026, penso che prima del 2030 ci saremo sinceramente. Se posso fare una domanda? Non credevo così presto, è incredibile. Sì. Grazie Laura. Grazie. Vorrei fare una domanda. Innanzitutto complimenti Laura perché lei ha portato un tema interessantissimo e coinvolta professionalmente, ma lei ha una capacità di presentazione e di esposizione notevole. Grazie mille. Spera di essere coinvolti al massimo delle nostre capacità. Grazie, la ringrazio moltissimo. Questa è una dote particolare. Senta, io ho una curiosità probabilmente banale, però mi ha incuriosito molto in questa storia che lei ha fatto dei vari rover, questo aspetto delle variazioni ambientali e mi domandavo se ci si concentra moltissimo sugli aspetti funzionali della parte robotica, dell'intelligenza robotica, eccetera, ma qual è anche la parte di studio, di simulazione delle variazioni ambientali, intendo climatiche non solo, e quindi questa interazione, cioè i designer lo chiamano l'interaction design tra la parte di funzionalità robotica e di intelligenza di software con l'aspetto ambientale di contesto complesso nel suo variare. Quindi immagino ci siano, come dire, anche studi e simulazioni incrociate. Sì, ovviamente. Allora, ci sono degli studi e delle simulazioni di cui parla lei, però purtroppo, ecco, nell'ambito del mio lavoro, noi ci limitiamo, diciamo, alla parte della missione che c'è stata, tra virgolette, c'è stata data dall'AESA, ovvero la parte di cui ci occupiamo è più che altro la parte robotica del movimento del rover, indipendentemente un po', direi, dall'ambiente in cui si trova in quel momento. È vero, poi, nella simulazione cerchiamo di riprodurre un po' un ambiente che sia il più possibile vicino a come sarebbe originalmente l'ambiente su Marte, ma non ci occupiamo esattamente di questo aspetto. Sinceramente non le so rispondere con esattezza perché non ci concentriamo su questo aspetto, le dico la verità. Comunque, complimenti per la sua attività e per il vostro team giovane così preparato e motivato. Grazie mille, la ringrazio molto. Io avevo un'altra domanda invece relativa a... Ma forse c'è Alessandro Lega che voleva fare una domanda, lascio spazio a lui, perché io ne ho già fatta una. Grazie, Serena. Ciao, prego. Complimenti per l'esposizione, per la capacità di rendere semplici i corsi difficili. Una domanda organizzativa. Giovani come lei, capisco che ci hai laureata in una università spagnola, ma questo è internazionale. Quale percorso ha dovuto fare per arrivare nel team di sperimentazione? Allora, io all'inizio non mi sarei mai immaginata di arrivare ovviamente dove sono arrivata adesso, perché, come ho già detto nella parte di introduzione, diciamo, della presentazione, ho iniziato con una laurea in marketing, quindi sono entrata un po' nell'ambito dell'economia. E questa è la facilità nell'esposizione, nella divulgazione. Sì, probabilmente. Io mi sono laureata in marketing, appunto, e l'ultimo anno di marketing ho deciso di fare l'Erasmus qui. Ho fatto l'Erasmus qui e durante quell'anno ho trovato un corso di programmazione dove ho mandato poi il curriculum, giusto per mandarlo non avrei mai pensato che mi avrebbero preso, e mi hanno preso, è stato un corso che è durato più o meno all'incirca sei mesi, penso, e un corso piuttosto importante dove ti insegnavano ovviamente le basi della programmazione, ma era anche abbastanza avanzato e ti rilasciava addirittura un diploma a livello europeo. E mi sono innamorata della programmazione, ovvero quando ho finito questo corso ho detto allora cosa faccio, faccio la specialistica in Italia o mi prendo una laurea in questo ambito che mi piace tantissimo e mi fa impazzire? E ho detto proviamo, proviamo, non sapevo come sarebbe andata. Fortunatamente quando poi mi sono iscritta qui all'università, molte materie che ho portato dalla rama di economia, molte materie sono state, non ho dovuto farle diciamo durante il primo anno perché ad esempio c'erano materie di statistica o materie inerenti comunque alla parte economica che fortunatamente non ho fatto e sono riuscita a laurearmi con un anno di anticipo. Quando mi sono laureata direi forse che è stata un po' di fortuna, un po' che mi appassionava tanto questo mondo e ho scelto un professore per il progetto della tesi che era il responsabile del laboratorio. Quindi quando poi ho presentato questo progetto a giugno del 2020 era andato molto molto bene e per questo motivo lui mi ha offerto un lavoro in questo team che ha montato lui. Lui nel 2015 è stato all'ESA, ha fatto un periodo all'ESA e da lì è iniziata diciamo questa cooperazione con l'Università di Malaga e ha fondato questo laboratorio di robotica spaziale. All'inizio erano uno o due e oggi avete visto siamo ormai in otto ecco. È un lavoro nell'ambito della ricerca ovviamente, siamo ricercatori, diciamo siamo ricercatori. È bellissimo, è molto appassionante, è difficile ma è molto bello davvero. E' vero che se me l'avessero chiesto 4-5 anni fa non avrei saputo, se mi avessero detto sai che tu tra 5 anni sarai in un laboratorio di robotica spaziale non ci avrei creduto, non ci avrei creduto. È stato un percorso un po' inaspettato e ne sono molto contenta, le dico la verità. Rinnovo i complimenti, poi le faccio un'ultimissima domanda. È possibile che un giorno magari quando lei vorrà un talento come il suo possa tornare in Italia? Sì, è molto probabile, è molto probabile perché come hai già detto sono 4-5 anni che sono qui e poi dopo un po' ti manca la tua casa. Soprattutto quest'anno poi che sono sei mesi che non torno a casa quasi, sono qui e ho una voglia matta di venire lì in Brianza da voi. Sì, è molto probabile, è molto probabile che tra qualche anno se non, non so. Capisco che adesso la paella piace più della casella. Ah, la paella sì, quello sì, quello è vero. Come me da ora. Grazie, grazie mille. Laura, ci sono un paio di domande in chat, non so se da Irene una domanda personale. Una sola donna in un team di 10 persone, però non ho capito interesse, capacità, dedizione, intuizione, curiosità tutta femminile, motivazioni. Non ho capito bene la domanda, però nel senso sicuramente non è facile. Allora, motivazioni, direi che è facile lavorare con gli uomini, sono sincera al 100%, è facile lavorare con gli uomini. Direi che è molto più facile che lavorare con le donne, poi è vero, bisogna farsi rispettare, ecco. Bisogna tirare fuori i denti e far sapere che tu sei lì e che ci sei e che sei ovviamente, perché no, al loro livello, se non di più, perché no. Però sì, è vero, bisogna essere molto forti, ma poi quando, sì, il primo periodo è un po' più difficile, no? Ti senti un po' solo, però, ripeto, a parte che tutti i ragazzi sono molto aperti, soprattutto, vabbè, poi qua in Spagna la gente è apertissima, diciamo la verità. Però poi i ragazzi sono molto gentili con me e all'inizio, è vero, non ci conoscevamo molto bene, ma adesso siamo in confidenza e mi trovo molto bene, dico la verità, mi trovo molto bene. Ho dovuto tirare fuori un po' i denti all'inizio e far sapere chi ero, ma adesso siamo tutti al pari e è bellissimo, veramente. È molto bello, è molto bello lavorare con loro. Sei brava anche tu, però, mi sa. Allora, Laura chiede, considerando che è stato detto che ci vuoi circa dieci minuti per permettere al rover di ricevere il comando inviato dalla Terra, infatti mi aveva colpito anche a me questa cosa. Nel frattempo, come vi gestite, gestite voi e il robot tra un comando e l'altro? Allora, ho detto qualcosa durante la presentazione, il robot si muove in forma semiautomatica, ovvero ci sono degli algoritmi che sono sviluppati, per esempio noi nel laboratorio usiamo un algoritmo chiamato path planning per il cammino del rover, per il percorso del rover, nel quale, per esempio, avendo una foto fatta dalla parte superiore del terreno, noi facciamo una specie, detto in parole povere, di mappa, dove è difficile spiegare in modo semplice. Diamo un costo a ogni oggetto che può essere pericoloso per il rover. Per esempio, se c'è una roccia, gli diamo un costo molto alto e nel rover, tra i diversi programmi che si stanno in quel momento, che i rover, scusatemi, che in quel momento muovono il rover, uno sarebbe il path planning che calcola, diciamo, il costo di quel percorso rispetto a un altro e se il costo è molto alto perché ci sono molti ostacoli, scegli un altro percorso. Quindi il rover praticamente da solo si muove, ovvero noi possiamo dirgli vogliamo andare verso la parte sud, per esempio, no? Il rover, purtroppo so che è molto difficile, è difficile spiegarlo con parole semplici, il rover grazie a questi programmi riesce a capire dove muoversi, però comunque dovete anche pensare che ha numerosissimi sensori che rispetto a quando si avvicina molto, ad esempio, a una roccia, i sensori lo fanno girare comunque. Però sì, di solito funzionano con degli algoritmi che si basano sul terreno, su una mappa del terreno che abbiamo e dove calcolando un po' la distanza dai vari percorsi creiamo diversi percorsi che potrebbe fare il rover e in base a quelli lui si muove. So che è molto difficile, vi chiedo scusa se non mi sono spiegata, è il modo più semplice che ho trovato per spiegarmi, ecco. No, no, assolutamente sei chiarissima, solo che ovviamente la materia è molto complessa. Ovvio, ovvio. Sì, comunque per rispondere alla domanda, sì, si muovono loro letteralmente. È questa la difficoltà, soprattutto di questa missione con il rover Perseverance. Il rover è lontanissimo da noi e il momento in cui, per esempio, col braccio robotico dovrà chiudere il campione, lo farà da solo. Per questo forse non mi sono ricordata di dirlo durante la presentazione. I più positivi pensano che riusciremo a riempire tutte e 43 le provette, ma si considera che con riempire 20 provette la missione è andata a buon fine, ovvero con la metà, con meno della metà, perché ripeto, tutto questo si svolge da un rover lontanissimo e che lo fa praticamente da solo. È molto difficile, ecco. Su un altro pianeta, quindi con condizioni ambientali, insomma, poi anche non prevedibili, perché anche questa cosa delle tempeste, insomma, mi ha colpito molto. E Gabriele chiede, a parte che nella chat ti fanno tutti tantissimi complimenti, veramente anche per l'esplosione. Grazie, vi ringrazio tutti, grazie mille. Ma si vede proprio che c'è l'entusiasmo e la passione dietro, è dentro tutto questo. Grazie. No, si chiede, Gabriele, a livello di collaborazione multidisciplinare, oltre a ingegneri e programmatori, quanto partecipano fisici o ricercatori teorici a progetti di questo tipo? Allora, so rispondere relativamente a questa domanda, nel senso che noi nel laboratorio siamo solamente ingegneri e programmatori, quindi noi ci occupiamo solamente di questo aspetto della missione. La missione, io vi ho fatto vedere una piccola parte della missione, una missione estremamente complessa, ovviamente, e in realtà ci sono, a parte geologi da tutto il mondo, per esempio nel momento in cui bisogna scegliere la roccia dalla quale estrarre il materiale, no? Per essere poi sigillato nel campione. Ripeto, il rover lo fa più o meno in autonomia, studiando le foto che riceviamo dal rover, più o meno si dovrebbe riuscire a capire quale roccia può essere interessante per il recupero di terreno e quale no. Quindi, ad esempio, al di fuori delle agenzie spaziali ci sono dei geologi e dei ricercatori da tutto il mondo che stanno aiutando un po' nella scelta di queste rocce e di questi terreni. Quindi, per quanto riguarda, io purtroppo, purtroppo, per fortuna perché mi piace molto, mi occupo della parte del movimento del braccio e di dove deve andare il rover. Ovviamente, ci saranno fisici e ricercatori numerosissimi, perché no? Ancora più numerosi dei programmatori che lavoreranno per questa missione, sicuramente, sicuramente. Non so se ho risposto alla domanda. Penso di aver risposto. Altre domande? Sì, sì. Io volevo sapere perché è importante avere dei campioni di Marte in senso pratico, a parte per aumentare le nostre conoscenze scientifici, che, cioè, io avevo detto che comunque può servire anche per conoscere meglio la Terra. In che senso? Come? Esatto, è vero. Allora, bisogna pensare che fino ad oggi, con tutte le missioni che sono state fatte, non siamo mai riusciti a recuperare dei materiali del terreno marziano e riportarli sulla Terra. Sono interessanti, prima di tutto, a livello geologico per studiare la geologia del terreno, che già è stata molto studiata, ovvero abbiamo moltissime informazioni riguardo allo sviluppo geologico del terreno durante gli anni. In particolare, in questa missione, è molto importante riuscire a riportarli, più che altro però per lo studio dell'ipotetica presenza di vita sul pianeta, ovvero il rover ha moltissimi strumenti a bordo, moltissimi. Abbiamo visto che è un rover molto sofisticato, ma non sarebbe mai come poterli studiare, ovviamente, qui sulla Terra, nei nostri laboratori. Quindi l'importanza è sia a livello geologico, anche se comunque Marte è già stata studiata molto a livello geologico. Soprattutto è riuscire a analizzare nel dettaglio questi campioni, capire se sono sterili, se c'è stata un po' l'influenza nostra dalla Terra, e riuscire a capire se effettivamente sono valide le teorie sulla presenza di vita su Marte. Nel passato, anche perché no, nel presente si parla sempre, quando parliamo di forme di vita, sono forme di vita microscopiche, molto piccole, ovviamente. Non è il classico martiano che ci immaginiamo dai film. Esatto, quando hai parlato di forme di vita ci siamo tutti affascinati. O spaventati magari, no? Perché i film, la filmografia è molto impietosa. Daniele chiede quali rischi può correre il rover, si può incastrare andando così lentamente, immagino subisca traumi e incidenti. Allora, è ovvio, purtroppo possono esserci incidenti come nel caso di Spirit. Noi studiamo comunque il terreno tutto intorno, noi riceviamo delle foto dal rover, noi in questo caso stiamo parlando del rover Perseverance e stiamo parlando della NASA. La NASA riceve delle foto dal rover, studia il terreno tutto intorno e quindi in base a quello riesce a muoverlo verso un punto che sia più facile, dove il passaggio del rover appunto sia più facile. Però comunque è vero che sì, si può incastrare nel caso di Spirit che cosa è successo. Era stato studiato il terreno tutto intorno e quando poi il rover è rimasto incastrato? Quando è arrivato su un terreno dall'aspetto normale, quindi dalle foto ricevute era un terreno come un altro, ma sotto c'era tutto uno strato di sabbia soffice che l'ha intrappolato. Quindi sì, questo può essere tranquillamente un pericolo per il rover o anche per esempio il tema dei pannelli solari. In questo caso non stiamo più usando con Perseverance pannelli solari, ma nel passato abbiamo visto che più di un rover con questi pannelli pieni di sabbia non è più riuscito a muoversi. A questo proposito a un certo punto mi chiedevo, poiché appunto queste tempeste su Marte sono molto dannose per i rover, se è possibile o sarà possibile prevederle, cioè avere dei meteorologi di Marte? Allora, ovviamente è possibile prevederle, però cosa succede? Che queste tempeste comunque interessano tutto il pianeta, quindi vedendo che i rover si muovono così piano, purtroppo sì, nel caso di Opportunity per esempio, si è vista arrivare la tempesta, quindi con anticipo il rover è stato spento. Però comunque diciamo che non l'ha salvato, anche se era stato spento la tempesta è arrivata e non hanno potuto mettere il rover in una zona che fosse meno pericolosa, perché sì, la tempesta si è vista con molto anticipo, ma il rover purtroppo si muove alla velocità che è. E poi, non so se l'ho già detto, si muove con questa velocità appunto per la domanda che mi hanno fatto prima, ovvero il movimento semiautomatico. Il rover si muove da solo, però ovviamente va pianissimo per fare in modo che comunque un minimo noi possiamo avere il tempo di dirgli, cambia percorso, anche se in teoria lo fa lui in un modo semiautomatico, in una modalità semiautomatica. A me interessava anche capire se non ci sono altre domande, quando hai parlato di forme di vita, ma quindi sarà possibile per esempio ipoteticamente portarle intatte sulla terra? È una domanda complicata, nel senso che stavo leggendo giusto l'altro giorno un articolo di uno studio che è stato fatto in un'università americana, che diceva che se si trovassero per esempio delle forme di vita su Marte, dei microbi, può anche essere che ce le abbiamo portati noi. Ovvero, come dicevo, noi stiamo lavorando in ambienti sterili al 99%, purtroppo non si può mai assicurare una sterilizzazione del 100%. I rover sono portati a temperature altissime, però comunque i microbi e i batteri sono dappertutto, ce li abbiamo noi dentro il corpo, sono letteralmente dappertutto. E può essere che ci siano dei batteri talmente forti da riuscire a sopravvivere al viaggio su Marte. Quindi può essere che quello che dicevo, ovvero noi ogni volta che arriviamo su Marte la contaminiamo sempre di più. E per questo motivo sì, può essere che in questi campioni, che questi campioni in parte siano stati contaminati, però per questo sono state inserite delle provette witness con del terreno, dei campioni che arrivano dalla Terra e che hanno fatto lo stesso viaggio. Quindi molto probabilmente se si trovasse un tipo di contaminazione in una provetta e nell'altra è perché ce l'abbiamo portata noi. Se invece troviamo per esempio un materiale diverso che non ci sia nelle provette che arrivano dalla Terra, in teoria quel materiale lì dovrebbe essere di Marte. Però già stiamo inquinando Marte, è incredibile, cioè non ci bastava inquinare la Terra. Non ci bastava la Terra. Sì, 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 sì. Maria Rosa chiede quanto la tecnologia nuova che state sviluppando può essere utile per vivere meglio sulla Terra? Non so cosa si riferisce con tecnologia nuova. Se si riferisce agli strumenti, per esempio, del rover nella generazione di ossigeno, eccetera, sono tutti strumenti che sono, sinceramente, sono stati pensati e sviluppati per essere usati su Marte. Ecco, in questo momento diciamo che sulla Terra non ci servono molto perché almeno al momento abbiamo abbastanza ossigeno per sopravvivere. Non so se si riferisce a questo con tecnologia o a cosa si riferisce. Però diciamo che comunque questi rover che mandiamo su questo pianeta, sul nostro in realtà diciamo che non ci servono, ovvero di per sé un rover è un robot per esplorare un luogo dove ancora non si può arrivare. Quindi è vero che ci sono moltissimi tipi di rover. Ci sono rover usati nell'ambito dell'agricoltura, ci sono rover usati per moltissime missioni, per esempio dei rover usati anche nei grandi magazzini per trasportare delle merci. Quindi in realtà i rover sono molto usati nella vita quotidiana, direi, sulla Terra. Però questi tipi di rover che servono per esplorare e recuperare dei campioni da zone dove non si può arrivare, sulla Terra ovviamente non ci servono. Direi che non ci servono. Insomma, noi è un'ora e mezza, no, continuiamo. Prima che si chiuda questa serata davvero unica, chiede Irene, un cordiale saluto a tutti, un ringraziamento speciale a questa giovane donna di grande valore. Grazie alla Semina per questo spaccato di futuro. Mi sembrano delle parole bellissime per concludere questa magnifica serata, perché insomma... Grazie a tutti per esservi collegati, so che è stata un po' lunga la presentazione, ma c'erano tante cose che ci tenevo a dire, ecco, e vi ringrazio moltissimo per essere stati collegati appunto. No, no, ma siamo noi che ringraziamo veramente perché siamo rimasti affascinati dagli argomenti, ma anche insomma da chi li ha presentati. Io non so se il Presidente Stefano vuole fare un saluto, anche lui, o anche Pierangelo, la nostra illustre ospite, possiamo dirlo, caspita. Siamo stati in Antartide, ma adesso andiamo anche, siamo stati anche su Marte, meraviglioso, veramente. Sicuramente il nostro Presidente Stefano, in attesa che arrivi, io ringrazio infinitamente l'ingegnere Natuali, Laura, proprio perché ci ha portato... È stata una delle più belle conferenze che abbiamo avuto e abbiamo seguito veramente, come è stato detto un po' da tutti, con molta passione e siamo riusciti a comprendere cose non semplici da comprendere. Spiegate molto bene e soprattutto questa sua esperienza, lei così giovane, così brava, in poco tempo ha bruciato tutte le tappe e questo vostro team, siete il futuro, siete il futuro e per noi è una meraviglia. Ringrazio molto Serena per averci messo in contatto con lei, aver realizzato questa serata e sicuramente grazie all'alunno di Serena, al nipotino, al nipotino. Riccardo, il nipote di Laura che ci ha segnalato, insomma. La ringrazio moltissimo, ha detto delle parole meravigliose, la ringrazio davvero moltissimo, sono onorata di essere qui con voi questa sera. Credo che ci potremo lasciare con un appuntamento prossimo in base agli sviluppi del suo lavoro e dei progetti del vostro laboratorio. Molto volentieri, molto volentieri. La ringrazio è aperta questa strada con la Semina e quindi noi saremo pronti quando lei e Serena deciderete che sarà il caso di un secondo incontro. Di un secondo round, perfetto, grazie mille, grazie. Grazie di cuore. Sarebbe fantastico. Sì, sì, anche a me piacerebbe molto. Grazie tante, Laura, veramente. Grazie, grazie davvero. Grazie anche a tutte le persone intervenute da parte della Semina e arrivederci a tutti. Allora, a presto per la prossima missione su Marte. A presto, arrivederci a tutti e grazie, grazie mille. Grazie mille, Laura. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille.